Si è comportato in maniera infantile, immatura, disfattista Bella, TheRealNiko ragazzi viene preso Skype King Eh no aspetta, ho sbagliato, dammi un secondo l'ora distratto TheRealNiko ma sei tutto pazzo con i 5 abbonamenti regalo, grazie di cuore cazzo Grazie mille, grazie mille TheRealNiko ma sei tutto pazzo con i 5 abbonamenti regalo, grazie di cuore cazzo Quello che ho detto prima, e si è comportato in maniera infantile, immatura, disfattista, arrendevole Bambinesca Bella, Bjump grazie mille per i 4 mesi Grazie mille per i 5 abbonamenti regalo, grazie di cuore cazzo E ora ci giochi di nuovo? Eh vabbè ragazzi Aguri ha fatto il rank 1 in coreano e è il primo coglione che passa Mi piace un sacco questa teoria È una delle frasi che mi triggera di più in assoluto Quindi io ho fatto il rank 23 in Europa E posso fare quello che voglio, giusto? O li lascio a passare Ammazzo le persone, picchio i bambini Rank 23 in Europa ragazzi, non è che sono il primo coglione che passa L'ho fatto, cioè sono un grande Cioè io ormai non merito più di rispettare nessuno Grazie sei guai No ma capiamo un secondo ragazzi Posso fare quello che voglio agli altri esseri viventi Posso insultarli, attaccarli Io ho so molto ego È incredibile che non si conoscevano la lingua Ma il griffo è un algoritmo È un'altra Ma il griffo è un'altra Ma il griffo è un'altra Ma il griffo è un'altra Se Axelan qua dice che ha giocato mai Bene, entra, poi vedi tu Bravo King Probabilmente Probabilmente Senza contare che In questo game Ha intato Anche se ho fatto degli errori Non lo autorizza a fare quello che ho fatto Quindi Comunque Non vale nulla I go home Figo l'arma si muta la gente Ok, oggi per me vanno un po' di più Ok Ma poi Allora Grazie per il consiglio di essere un po' più stronzo Ah, quello mi ha già mutato Ecco Questo potrebbe essere un bene Se lo tilta Che io scrivo qualcosa Cari fa bene Abbiamo match up in bot E non facilissimo Non c'è Non c'è di poterli grabbare E' la madonna Scemo più scemo Io e E' l'amica Guys Non l'hai grave Ci cura immediatamente Da un donna del genere Ok Risposto al messaggio della fidanzatina Possiamo giocare di nuovo Vai Quando vuoi Take your time Livello 1 Sono più forti Per ovvi motivi Brutto 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 Non terribile Ma brutto A Brushi A Napoli Mi avete chiesto In moltissimi Di bacermi alla pelata Avete un po' esagerato Secondo me C'è un buco Comunque Non credo di venire al comico Sapete Quello è un bel gank Ma va benissimo Quello che è successo Stiamo vivendo veramente Distrutti da questa Senna Veramente grandi trade Grandi Cioè Cioè Rompendo i coglioni Io la pozione Non la utilizzo mai Un posizionamento Veramente Di un professionista Dopo quel grab Forse Dopo quel mio Arrode il culo Ah pure l'ok Mi fa Orco giuro Or dunque Ce ne sono buchi Cose interessanti Da vedere qua Niente Non voglio mentire Nei miei poveri Grab Comunque Nulla è grave Stiamo perdendo un po' Un po' di farm Perché chiaramente Farmiamo sotto torre Ma Fino a questo momento Tutto accettabile Sì Eh ma questo l'ha frizzato Ma direi bene Posso regolare qua? Ma è detto A seconda ci sto Ma secondo me è un worth Ci abbiamo swiftness pink Non muore ma è un po' pericoloso Sto bug mi manda in tilt che non avete manco idea Ogni volta indica la zona sbaglia dove va Potevo forse flasciare No Non è per niente naturale questa giocata È devabile Porca puttana questa roba da merda Non è devabile Ok Ok Or dunque Amica Sen Amica Qualcuno di voi si vuole far uccidere Piana mi sembra un po' behind Quella è morto Quella è morto Io della merda No So non muore speed più Q muore ma non ce l'ha e muore la vera il frozen è giusto? no bene 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 tutto bene top vince giungla vince mid vareggia bot vince mid vince no 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 e tu fai il cazzo ogni volta è morto oddio non è impossibile che salvi no c'è chi ha una bot abbiamo un buon recall ma io rimango ma io rimango non è male non è nemmeno bene bene siamo più forti loro credi sì se grabbo sei nel mio per il mio se grabbo l'altro non credo non è non è successo è una maia credo Qua c'è da Regolare e basta E vuole pushare un altro Non c'è il ma Manco per farla più di Qua c'è? Fade check E i kill them My bad, my bad E il fatto che col bastardo C'ha escape Qua di una grabba Posso? Non è detto, sai cazzo Questa wave la vuole qualcuno? No 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 Muore, può dar altro Acabino a dar la ultima No 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 Questo è un signor lavoretto Perfetto Questa abbassata potrebbe aprire dentro la macchina Ha No 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 Oh my god Hai migliorato Senna? Sì Senna è la più fiddata Aveva perso il Banshee Inoltre era invisibile Quindi era ancora più al sicuro Cioè aveva ancora più Un Una percezione di sicurezza Sì 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 Basta Moro Ehm Ihm Ehm 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 io muoio questa roba incredibilmente buona due alla ulti provo senna se è possibile ok sagri potevo evitare di morire vabbè buono come è il frozen? due ad? no, non so giochiamo per... Belkoth muore gran peccato no, non si muore non si muore ma cagato raggede non si muore non so non si muore non si muore non si muore un uomo che Grazie 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 Insomma Grazie Grazie parlatore bot la cosa soprattutto molto bella è che sto shot collando quindi le back teeth salgo dietro anche per quello se prendo lo scuro io lo rompiamo c'è qualcun altro dietro non c'è un bel dubbio non mi piace quello che sto facendo forse ha ragione lui ha il ghost non hai detto che lui muoia c'è un flank? ho paura io ho paura non so perché ho molta paura la casa è enorme quindi magari riesce a fare comunque uno che no avete capito perché avevo paura? c'è abbiamo chiana sul flank abbiamo ingaggiato abbiamo ingaggiato non con me ma con Viego e non abbiamo stappato l'obiettivo per questo continuano a dire non mi piace per niente vorrei capire un secondo perché non capisco questo lo possiamo fare mi sa che posso fare anche questo non si può lavorare quella pink mi rifiuto di fare una morta alla Paul Cannon che poi in realtà ce ne sono due botlin ok adesso sono più tranquilli di fare un obiettivo del genere ecco questo è un setup perfetto dell'obiettivo andiamo a giocare per quella torre inizio va su Kaisa Kaisa è fortissima deve essere piccolo su tutto questo ok gran lavoro sono morto va bene non è male comunque sono metà HP sul loro suppo che non può più ingaggiare adesso l'inibitoria cadrà c'è un buco per Chiana no questa non è Chiana non finisce in 3-J perché non spero per ulti di Verkats questa roba è enorme proprio Chiana se io non grabo probabilmente il game non finisce sai e io non credo che graberò perché c'hanno comunque due tank uno col Banshee Chiana e Verkats sono unici grabati che stanno giocando in qual modo non è male non è male è male secondo me non è male viene che ce l'è qua andiamo a giocare per questo e il Frozen ce lo potremmo fare quant'è? 25 secondi in tempo cazzo si è in tempo Akali ha il TP si oh ci stiamo e io ci sto allora base è ingiocabile questo è soul una buona soul comunque oggi pensavo che sono intelligente non so perché qui c'è solo da mettere gli ansia abbastanza inutile grabare il bastardo sarebbe bellissima uccidere Verkats ma c'è una nuova fronte anche veramente disumana spero te lo ult in questo lo teniamo su di là eeeh let's go honoriamo Kaisa credo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti